Scusate bene! Sparate ancora! Contatto! Contatto! Deve in vivere! Via! Contatto vi dico, qui! Occhio di la nata! Rinforzi, rinforzi! Tutti là! Buon attimo! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, guarda! Sì! Abbiamo dei piloti in zona! 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 Sto attaccando la forteria. Pilata nemico individuato, vicino per ucciderlo. Sto attaccando la forteria. Sto attaccando la forteria. Sto attaccando la forteria. Sì, sì! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un pilota! Ora abbiamo più probabilità di vincere! Vai per ottenere il tuo Titan! Buongiorno! 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 Sono in vantaggio di poco! Possiamo farcela! Il tuo Titan è pronto, pilota. Sta aspettando la tua chiamata. Prepararsi a Titan Balls! Sto attaccando la batteria leggera. Sto attaccando la batteria leggera. La badass è in attaccato! Sono all'attacco di un pilota. Abattere i Titan fa sempre effetto. Bel lavoro, pilota. Abattere i Titan fa sempre. 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 Grazie a tutti Titan pronto! Grazie a Titan Ball! Possiamo ancora farcela, non disperare! Grazie a tutti! Grazie a tutti!